Come ti sembra stamattina con Raleco, il passeggio, la vida? Sì, che ci dice? Una piccola premessa, a tutti i commenti un po' particolari che ho visto ieri, no? Allora, un dato assodato, un po' di progettibile, perché noi ci amiamo? Noi saremmo io e te. Esatto, che per me sei la persona più intelligente che ho conosciuto la vita mia. Una studiosa indefessa che io racconto ai miei studenti, che tu con una scrittoria e i libri cambieresti. Noi mi dico però che c'è un po' altro, la sei tu, la tua casa. Ecco, io ho le mie critiche, perché io sono completamente diretta, però che non nasca neppure il minimo dubbio che tra me e lei ci siano, non ci sia amore. In conflitti, vabbè, ma tra madre e figlia se ci stanno conflitti non devi leggere, non sono tutti gli altri, perché non c'è nessun tipo di cambiamento. Menomale, poi penseranno che ti ho pagato e ti ho chiesto, ma invece visto, ti avevo chiesto come stava Corallia questa mattina, grazie, non me lo aspettavo. E non comprendo, no, che c'è, diciamo che la dialettica è una delle cose fondamentali della vita. Oh Albi, questa è per te, Albi Argentaro. Quindi, diciamo, contrastarci, dire, no, c'hai torta, la pezza così, no. Questo musole è perché aspetta la torta al cioccolato, no? Perché si è di sta faccia depressa nel video. Quindi, ecco, questo è perché è un concetto basilare, qualche faceture che ci scanneremo da qui all'eternità. Ma divertendoci, in tutto ciò, cambiate la faccetta perché è arrivata la torta. Levate i capelli dal viso. Però io non la voglio, non la mangiare. Quale? La panna? Ma ce la mettiamo noi nel caffè. Scusate, adesso il caffè non è il caffè. E ora mi sei messo tu a rispondere a certi commenti. Puoi rassicurare anche a proposito, ora mi mangio questa, certune persone che non sono un'anoressica che non mangia, ma mangiano sempre quello che mi pare? No, mangia, ma è talmente framerica nel mangiare che consuma mentre mangia. Lui arriva. E infatti adesso mangia il consumo. Dopo, amici.